Antonino Asta davanti a tutti, in una virtuale griglia di partenza per scegliere il prossimo allenatore del Teramo, l'ex tecnico di Monza, Bassano, Lecce e Feralpi Salò, sembra aver scavato un piccolo solco rispetto ai concorrenti più agguerriti. O forse, sarebbe il caso di dire, al concorrente più agguerrito. Perché in questo momento a contendere la panchina bianco-rossa ad Asta sembra esserci realisticamente solo Ottavio Palladini, il duellante più accreditato, quello con le argomentazioni migliori per sopravvanzare il candidato favorito. È probabile che già nella giornata di oggi ci sia il contatto diretto tra il Teramo e Asta, con il nuovo direttore sportivo Giorgio Repetto che dovrà valutare se il profilo è adatto per la stagione della rivincita. La sensazione è che il diavolo cambia la strada rispetto alla scelta principale solamente nel momento in cui con Asta le cose non dovessero andare, nel senso sperato. In quel caso, e solo in quel caso, Palladini avrebbe strada libera per l'eventuale sorpasso. L'accelerata dunque ci sarà in queste ore, visto che il Teramo ha fretta di iniziare a programmare la campagna acquisti, ma soprattutto quella delle cessioni, che dovrà riguardare per forza di cose buona parte dei componenti dell'attuale organico. Se Asta, come sembra, dovesse essere il prescelto, anche la rosa andrà rifondata sui canoni del 4-3, il modulo prediletto dal tecnico che potrebbe diventare il nuovo credo bianco-rosso, e che rimarrebbe comunque il sistema di gioco preferito anche nel caso di arrivo di Palladini. Il weekend, questo weekend, potrebbe risultare decisivo per la fumata bianca, come già accaduto col direttore sportivo, che già domattina potrebbe essere presentato alla stampa e alla tifoseria. In questo modo, il Teramo riempirebbe la casella mancante e sarebbe pronto per cominciare la nuova avventura.